Una casa che è stata costruita grazie ai Moby Green, una delle tante case. Facciamo vedere... Il contatto dei Moby Green e poi Design House è una casa dei Moby Green. Oltretutto sarà una casa passiva, certificata Casa Clima. Quindi dai Moby Green è partito un signore, ha scritto a Design House, perché i signori l'hanno contattato e hanno usato una casa passiva, Casa Clima, Oro, Trebro. 9 kg di consumo di metro quadro alla tua sistema di ventilazione meccanico attivo. Extraordinario. Grazie a tutti. Grazie a tutti.